Le manipolazioni vertebrali sono uno strumento estremamente importante all'interno della nostra pratica di studio, uno strumento che ti permette di ottenere dei risultati veramente importanti in tempi estremamente più rapidi. C'è un però all'interno di questa frase, sono efficaci se e solo se applicati a concetti diagnostica e strategia estremamente precisi e basati su concetti forti. Quindi come puoi imparare tutto questo? Grazie al mio manuale di osteopatia strutturale, un manuale estremamente pratico che al suo interno contiene gli insegnamenti di Alain Bernardo, colui che portò l'osteopatia in Italia e che della manipolazione vertebrale ha fatto il pilastro della sua professione. Quindi se in questo momento anche tu vuoi entrare in possesso di una copia del mio manuale di osteopatia strutturale, quello che devi fare è cliccare sul bottone qui sotto e insieme al manuale riceverai una serie di bonus. Quindi clicca sul link, clicca sul bottone, ci vediamo dentro.